Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Salerno Editrice che si intitola Tamerlano, di Michele Bernardini, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite al quale io lascio subito la parola per non rubare altro tempo e ascoltare cosa ci racconta di questa figura così importante e rilevante. Prego professore, a lei. Buongiorno, per me è un gran piacere oggi parlare con voi di questo libro che è stato il prodotto di un venti anni di lavoro da me fatto sulle fonti persiane perché io sono sostanzialmente uno studioso di lingua e letteratura persiana e di storia del mondo iranico e turco e questo studio mi ha portato nel corso del tempo a elaborare una figura molto difficile, a volte anche molto ingombrante, non una persona gradevole, ecco non vorrei passarci una vacanza insieme a Tamerlano neanche di un giorno forse perché è un tiranno, un uomo durissimo, anche molto violento, molto brutale e in fondo non un grande legislatore, non un grande uomo di pensiero, ma un grande condottiero, condottiero che è un termine che si presta bene a Tamerlano e si presta bene anche poi per diciamo l'immagine che di lui si è riflessa nel corso del tempo anche in Europa dove addirittura Machiavelli rimase abbastanza colpito dalla figura tanto che c'è stato chi lo ha accostato a Castruccio Castracani o a delle figure appunto della letteratura occidentale, molti lo hanno accostato ad Alessandro Magno, Alessandro Magno è il parallelo più gettonato se volete, ma anche ci sono stati molti sovrani occidentali che sono stati molto attratti da questa figura, uno di questi è stato il re Sole che attraverso Colbert leggeva le pagine di una cronaca persiana che era stata tradotta da François Petit de Lacroix e che esaltava appunto le doti e le virtù di Tamerlano. Quindi c'è un certo, c'è un gusto se volete ambivalente in questo, nello studio di questo personaggio nel quale si può trovare da una parte un successo strepitoso della figura, della sua rielaborazione e dall'altra un personaggio che è veramente molto primitivo nel suo modo di essere e in questo senso io mi sono trovato anche a fare uno studio anche molto psicologico su questa figura, non senza alcune difficoltà. Mi sono arenato spesso in questa ricerca appunto. Una delle cose più interessanti della figura di Tamerlano, almeno di questo libro, è, io ho cercato di dividerlo diciamo in tre parti sostanziali. Una parte è relativa alle sue origini, le sue origini sono veramente misteriose, oscure, si sa molto poco di Tamerlano dei primi trent'anni della sua vita. Tenete conto che la sua nascita è stabilita da quella che noi conosciamo come sua data di nascita, è stabilita dagli astrologi di corte che avevano trovato una congiunzione astrale favorevole per cui avevano deciso che lui era nato quando Giove era in congiunzione col Sole e con Venere, secondo un modello astrologico molto molto diffuso all'epoca per cui si chiamava il Signore della congiunzione astrale. Questo è il titolo con cui lo chiamano tutte le fonti persiane. In realtà probabilmente lui non è nato nel 1336 come si dice, ma vent'anni prima, dieci anni prima, quindici anni prima. Insomma ci sono molte ipotesi su una nascita in realtà precedente e in quei vent'anni, trent'anni che portano fino al 1370 noi non sappiamo nulla di lui, non sappiamo praticamente nulla che non sia appartenga al fantastico, alle leggende, alle tradizioni orali tramandate da molti narratori che poi hanno condizionato la costruzione delle fonti storiche. Le fonti storiche relative a Tamerlano sono tutte posteriori, eccetto una, ma le altre sono tutte posteriori alla sua morte. Quindi è chiaro che sono ricostruzioni, sono molte delle testi che sono stati scritti mentre Tamerlano era in vita, sono andati perduti oggi e sono traghettati invece in opere che sono apparse dopo il 1405 che è l'anno della data della sua morte. E quindi tutta questa prima fase, questa prima epoca è molto leggendaria. È una prima epoca in cui succedono dei fatti molto importanti in realtà. Uno di questi è Tamerlano, compie delle razzie nel Sistan iraniano, cioè in una regione del sud dell'Iran odierno, e viene colpito da una freccia, una gamba che lo rende zoppo. Si chiama Timur Lang, cioè Timur lo zoppo, proprio perché è stato centrato da una freccia. Questo fatto è riscontrato poi da un antropologo russo che si chiamava Gerasimov che aprì la sua tomba nel 1941. Anche questo è un aspetto benato di grandissime colorazioni magiche perché quando questa tomba venne aperta e trovarono il suo scheletro in cui appunto c'era questa tacca su una gamba che segnava chiaramente una ferita fatta da una freccia, si disse anche che questo aveva causato l'operazione Barbarossa che proprio in quei giorni stava iniziando e l'Unione Sovietica veniva invasa appunto dai tedeschi. Questo tipo di cose vedete si mescolano molto aspetti leggendari, fantastici. Tra gli osbechi ci sono una marea di leggende su Tamerlano e tenete conto che Tamerlano è un eroe nazionale in Osbekistan, è considerato il fondatore dello Osbekistan, fatto del tutto anacronistico per un'infinità di ragioni che non vi sto a spiegare. Una seconda parte del libro è dedicata invece agli aspetti al tratto più imperiale se volete. Questo termine non mi piace molto, io non l'ho mai usato nel libro, ho mai parlato di impero perché in realtà non è un vero e proprio impero. Tamerlano non era capace di insediare dei poteri delegati nelle regioni che conquistava. Erano semplicemente zone oggetto di grandissimi saccheggi di razzie molto consistenti, ma non c'era una concezione di uno stato come potrebbe essere quella dell'impero romano o come sarà poi quella dell'impero ottomano. In Tamerlano c'è un aspetto assolutamente barbarico, devastante, se volete molto simile a quella che era stata in precedenza l'invasione degli Unni o altre invasioni come quelle degli Eftaliti più tardi nel VI secolo, cioè delle popolazioni nomadi che si spingono e poi ritornano verso delle basi centroasiatiche. Nel caso di Tamerlano la base era la città di Samarkand. Oggi in Uzbekistan, in antico, nella regione che si chiamava Transoxiana, cioè la regione che era l'Oltre Loxus. C'era un grande regno mozafaride che era molto importante nella regione del Fars, cioè quella che si chiama Perside nell'antichità occidentale, che noi chiamiamo anche Persia, perché io ho usato il termine Persia usando il termine che si usava nell'Italia rinascimentale per definire le regioni conquistate da Tamerlano. E quindi Tamerlano arriva a Shiraz, arriva a Isfahan, importantissime metropoli dell'epoca, le sottomette. A differenza dei mongoli che avevano conquistato soprattutto le città del nord dell'Iran, Tamerlano conquista le città del sud dell'Iran. E come i mongoli che hanno devastato le città del nord dell'Iran, Tamerlano devasta soprattutto, massacra le popolazioni delle città del sud. memorabili, famose, sono le sue torri, i suoi minareti di teste umane. Questi minareti di teste umane diventano una specie di simbolo proprio di tutte le sue invasioni, di tutte le sue conquiste. Li ritroviamo a Isfahan, dove compie una vera e propria strage. li ritroviamo poi in tutto l'Iran e li ritroveremo poi anche in Anatolia e in Asia centrale, dove Tamerlano combatterà numerose sue guerre di conquista. A differenza di questi territori del meridione, che sono territori sedentari, tra virgolette, cioè abitati da regni che hanno una base sulle grandi città, Tamerlano ebbe molto maggiore difficoltà a combattere con le popolazioni delle steppe settentrionali. Queste popolazioni delle steppe settentrionali erano invece caratterizzate da imperi nomadici e questi imperi nomadici erano molto più difficili da contrastare. In primo luogo c'era stato Tamerlano nei primi anni dopo il suo insediamento come grande emiro a Balkh nel 1370, lancia due grandi campagne contro la Corasmia, che era una grande regione, che è una grande regione oggi attorno al lago d'Aral, per capirci, e in questa grande campagna contro la Corasmia si trova a contrastare poi l'impero ciagataico, che si trovava al di sopra. Entra, penetra in territorio centrasiatico in almeno due circostanze e prima combatte lo stato ciagataico, cioè lo stato degli eredi di Gengis Khan, gli eredi diretti del secondo genito di Gengis Khan, che appunto si chiamava Ciagatai, i quali lo vedono all'inizio cercano di contrastarlo, ma alla fine soccombono definitivamente fino a sparire dalla scena perché lui riesce a sottomettere questo stato, ma sempre mettendoci una figura di sua fiducia, una figura che è questo Khizr Hoge, che era un signore locale. Sostituendo quindi i signori che c'erano prima, mettendo delle sue figure di fiducia, che naturalmente si rivelano spesso molto effimere, anche immediatamente si rivoltano appena lui riparte e ritorna indietro nelle sue terre. Ma il più grande nemico nelle steppe si chiama Tokhtamish Khan. Tokhtamish Khan è il signore dell'ordadoro che si è andata riformando, che inizialmente si dichiara alleato di Tamerlano e in un secondo tempo diventa un avversario molto ostico, contro cui lui deve combattere a più riprese. Saranno cinque campagne centroasiatiche contro Tokhtamish Khan in cui Tamerlano combatterà contro questo personaggio senza mai riuscire ad ucciderlo, senza mai riuscire ad eliminarlo dalla scena, e però alla fine riuscendo a distruggere praticamente tutto ciò che questo signore importantissimo aveva fatto in Asia centrale, in particolare nella regione del Volga, dove aveva la sua capitale nella città di Sarai. E la cosa che è molto interessante è che i primi rapporti con gli occidentali nascono proprio in queste campagne contro questo Tokhtamish. Inizialmente una campagna lo porta in quella che oggi è la regione di Samara, in territorio russo, ma che all'epoca era semplicemente un confluire di fiumi, con una battaglia di cui non sappiamo un granché, perché quello che sappiamo è che sì, vennero due eserciti nomadi, si sono confrontati semplicemente, e questo non vuol dire un granché, probabilmente l'esercito di Tamerlano aveva 200.000 effettivi, che è moltissimo per l'epoca, ma non è che abbiamo molte più informazioni di così. E poi abbiamo dopo una seconda grande campagna che porta Tamerlano appunto quasi fino a Mosca. Questo è molto interessante perché è legato anche qui a degli episodi anche mitici e molto interessanti. Una delle storie più belle è forse quella dei russi che portano la Madonna di Vladimir, la portano, portano l'icona a Mosca. Oggi questa Madonna è bellissima, dell'undicesimo secolo, è conservata nella galleria Tertriakov, però i russi credevano fosse stata dipinta da San Luca, proprio in persona aveva dipinto la Madonna. Ed è una, la leggenda vuole che Tamerlano sogni la Madonna di Vladimir e se ne torni indietro perché ne rimane appagliato. I russi accusavano spesso, gli storici russi hanno accusato spesso gli occidentali di non leggere le fonti russe e di credere a quelle persiane che hanno sempre detto erano un po' fantasie, un po' leggendari e così, ma anche quelle russe a ben guardare non scherzano. E di questa campagna russa in cui Tamerlano avrebbe addirittura conquistato Mosca, secondo le fonti russe, sappiamo pochissimo in realtà. Sappiamo che sul fiume Oca, molto probabilmente, i timuridi, cioè i seguaci di Tamerlano, sono dovuti tornare indietro, sono dovuti arretrare. Però hanno compiuto in seguito devastazioni terribili sia a Sarai, appunto, nella capitale di Tok Tamishkan, sia anche nella città di Hajitar Khan, oggi sarebbe la città di Astrakhan, impedendo sostanzialmente tutti i grandi traffici, tanto che sono arrivati fino al Don, alle foci del Don e dove, a Latana, cioè oggi è la città di Azov, per capirci, incontrano appunto i primi genovesi. Questo incontro è interessantissimo. Ne abbiamo una testimonianza da una cronaca trevigiana, di un personaggio, di un funzionario trevigiano, che scrive, Andrea De Redusi, si chiamava Redusio, scrive una cronaca in cui descrive appunto l'arrivo di Tamerlano davanti a Latana, appunto, come veniva chiamata la città, e loro mandano degli emissari, principalmente genovesi, veneziani, ma anche di altre comunità europee, come per esempio i Biscaglini, oppure i Catalani, che stavano tutti in questa zona per compiere i loro commerci, che erano commerci molto fiorenti, e questi emissari vengono ospitati nel grande accampamento di Tamerlano, che descrivono in maniera molto interessante, non solo per il suo aspetto, per come era fatto questo accampamento, erano degli accampamenti uno concentrico all'altro, fino ad arrivare a quello dove si trovava Tamerlano, ma anche per il fatto, per esempio, che loro trovano che ci sono due francescani che stanno con Tamerlano in quel momento, che li accorgono, e questi francescani esiste anche una, non è una fantasia, esistevano veramente, c'era l'Arcivescovado di Sultanie in Iran, dove appunto questi francescani avevano dei rapporti con Tamerlano, e anzi, una delle ambascerie più interessanti, delle prime ambascerie occidentali tra Tamerlano e l'Occidente, è quella di un certo Giovanni di Sultania, che arriva alla corte di Carlo VI di Francia e appunto porta la notizia di Tamerlano. Questo per dire cosa? Che poi in realtà Tamerlano prende la città della Tana, approfitta della visita di questi, come spesso faceva, di questi emissari per mandare una sua spia che va dentro la Tana, vede tutto, ritorna e quindi descrive come è fatta la città e permette un assedio molto più facile ai timuridi che conquistano appunto la città della Tana a Zoff oggi. La città della Tana in realtà poi viene devastata completamente e però cominciano degli ottimi rapporti, soprattutto tra i genovesi e i timuridi. Tant'è che questa cosa degli echi, anche più tardi nella letteratura italiana, spagnola, anche francese, è del fatto che ci fosse una presenza di un genovese alla corte di Tamerlano, che addirittura faceva un po', dettava un po' l'operato di Tamerlano stesso. Naturalmente questa è una leggenda, questo personaggio si chiamava nelle fonti occidentali Axalla, che è un nome abbastanza assurdo, ma è interessante notare che sicuramente qualche genovese, qualche veneziano, oppure qualche greco girava attorno a questa corte. Va ricordato che Genova all'epoca era sotto il controllo della Francia e in particolare sarà grazie ai genovesi e al maresciallo di Bussicò, che è uno dei quelli sciagurati che a Nicopolis avevano mandato allo sbaraglio la coalizione cristiana contro il sultano ottomano Bayazit, questo maresciallo di Bussicò comunque diventa anche l'artefice di grandi accordi con Tamerlano. E quindi, come vedete, ci sono anche in questo libro, devo dire, io ho provato anche il piacere di descrivere delle cose che sono abbastanza inedite, abbastanza poco conosciute, malgrado di biografie su Tamerlano, ce ne siano a decine, se non un centinaio almeno, insomma, di libri che sono stati scritti su di lui, più o meno eroici, più o meno encomiastici, eccetera. Un altro aspetto molto interessante di questo periodo, di questo periodo espansivo, è legato poi naturalmente alla grande campagna, al due grandi campagne, una contro l'India, che è una campagna trionfale, a mio giudizio compiuta a scopo propagandistico, cioè per far vedere che Tamerlano era un campione del jihad, cioè della guerra di religione contro gli infedeli, che è un capitolo terribile dal punto di vista delle distruzioni, dei massacri, delle stragi che vengono compiute a Delhi, cioè una vera e propria carneficina della popolazione, ma che è anche un capitolo molto interessante nelle cronache persiane, in realtà, perché permette di avere un'idea di come veniva vista antropologicamente questa civiltà che non era poi così familiare. nel mondo musulmano era una civiltà in cui l'ibridazione tra credenze locali, tra religioni politeiste, pagane, l'induismo era visto come il fumo negli occhi, e l'Islam, che era andata abbastanza bene fino a quel momento, nel senso che c'era stata una convivenza, pur essendoci state numerose campagne di islamizzazione, fin già dall'ottavo secolo, cioè fin dalla prima espansione islamica, e per Tamerlano questo era un aspetto insopportabile, insopportabile l'idea che questo mondo fosse così governato, e Tamerlano arriva fino a Delhi, supera Delhi, e arriva fino alle pendici dell'Himalaya, dove compie un'impresa straordinaria che è la distruzione di un idolo bovino, questo idolo bovino è in realtà un'emulazione di un suo predecessore, la distruzione di questo idolo è la continuazione dell'opera di un sovrano molto importante della storia del decimo secolo che si chiamava Mahmud di Ghazna, un sovrano afghano, anche lui turco come Tamerlano che a differenza di quanto si dice non era propriamente un mongolo ma era piuttosto di stirpe turca e la distruzione di questo idolo corrisponde alla stessa impresa compiuta da Mahmud secoli prima del famoso Lingam di Somnat. In realtà questo idolo era molto probabilmente il veicolo di Shiva il veicolo di Shiva è un bue che sorregge un Lingam anche lì un grosso simulacro fallico che viene posto sopra e ce ne sono diversi in India di questi simulacri e Tamerlano punta dritto verso questo obiettivo ma non è molto chiaro se questa battaglia per conquistare questa preda così ambita e farla in pezzi fosse andata poi così bene come viene descritta dalle fonti in quel momento Tamerlano tra l'altro accusa gravi malesseri malesseri probabilmente dovuti alla malaria varie malattie che lui aveva tra l'altro questo aspetto delle sue malattie è molto interessante perché si ritrova un po' in tutte le fonti e alla fine l'esercito ritorna a Samarkand e conclude questa grande impresa questa grande impresa però legittima Tamerlano a compiere l'impresa delle imprese andare in Anatolia e combattere contro il sultano Bayazit che era all'epoca all'apoggeo della sua potenza e stava portando teneva sotto assedio la città di Costantinopoli prima di fare quest'impresa però Tamerlano passa dalla Siria e in Siria appunto sconfigge i mamelucchi siriani egiziani e siriani i quali guidati da un giovane sultano Faraj che era abbastanza debole e incapace di contrastare Tamerlano vengono sbaragliati prima ad Aleppo e poi a Damasco qui è molto interessante un episodio veramente importantissimo dal punto di vista anche della storia del pensiero che è l'incontro fra Tamerlano e Ibn Khaldun Ibn Khaldun era un filosofo anzi uno filosofo della storia se volete che scrive in altri momenti la grande mukaddima cioè la grande storia introduzione alla storia un'opera fondamentale per tutta la storiografia islamica posteriore Ibn Khaldun incontra Tamerlano e c'è tutta una discussione sui concetti di civiltà sui concetti di discendenza sul concetto di solidarietà nella quale Tamerlano partecipa alla fine Ibn Khaldun che era un uomo lucidissimo esprime un giudizio che è molto interessante dice questo uomo non è né un genio né un uomo straordinario ma è un uomo molto abile e molto intelligente non è stupido ecco e dice bisogna ragionare su quello che dice parla di cose che sa e di cose che non sa è bellissimo questo e poi dice vabbè è un capo di un'orda di barbari tremendi che sono come le cavallette riprendendo tutto il repertorio che era stato già usato in precedenza per i mongoli demoni cavallette eccetera sono usatissimi nel contempo sempre in Siria un altro testimone straordinario delle imprese di Tamerlano era stato un senese Beltramo Mignanelli definito giustamente il primo arabista della storia perché era uno che conosceva benissimo l'arabo e che aveva interessi soprattutto sull'economia e questo per esempio ci lascia una testimonianza straordinaria di quello che era il riscatto della città di Damasco in cui a Tamerlano vengono fornite un milione di drachme di rham d'argento che però avevano Tamerlano non accetta perché hanno un altissimo tenore di rame e quindi le rifiuta e le rimanda indietro chiedendo di avere un milione di vere drachme e questo Mignanelli contabilizza tutto questo e ci lascia una testimonianza economica strepitosa su questo fatto alla fine Tamerlano dopo aver compiuto questa impresa arriva in Anatolia e dopo una serie di peregrinazioni nel territorio anatolico sconfigge Beyazit primo Beyazit primo detto la folgore per la velocità delle sue azioni per la sua capacità di combattere rapidamente lo sconfigge nei pressi di Ankara in una località che in realtà si chiama Ciubukova era una valle e questa sconfitta porta gli ottomani a subire un colpo durissimo il colpo più duro di tutta la loro storia dalla loro apparizione fino all'arrivo di Ataturk cioè nessuna sconfitta è stata così drammatica così dura così nasce tutta una serie di leggende anche su questo per esempio Tamerlano prese Beasit e lo chiuse in una gabbia e se lo trascinò in giro dentro una gabbia allora all'epoca nell'ottocento per esempio anche più tardi ci furono tanti studiosi che disero non è possibile Tamerlano era un uomo era comunque un re essendo un re cioè i re non fanno queste cose non commettono atti così abominevoli eccetera in realtà ben vedere questa storia sembra più che vera tant'è che questo povero Beasi dopo un anno muore in prigionia di Tamerlano quindi sparisce dalla scena pure lui e Tamerlano non esiterà poi a riconsegnare tutta l'Anatolia ai suoi figli come vedete il suo impero è totalmente effimero se di impero si può parlare io preferisco non farlo infine ci sono gli ultimi anni di Tamerlano e Tamerlano progetta una conquista verso la Cina che in realtà non è propriamente la Cina è il nord della Cina è quella regione che oggi corrisponde alla Mongolia interna e alla Mongolia vera e propria della Repubblica di Mongolia e questa impresa fallisce mentre lui è a Othrar cioè in una città del Kazakistan dove muore per il freddo e per la assunzione di alcol straordinaria che ha fatto nei giorni precedenti per poter sopportare questo freddo e quindi muore diciamo anche per uno shock etilico proprio lui che aveva distrutto tutte le vigne della Georgia che aveva ucciso buttato nel Bagdad a Bagdad tutto il vino nel Tigri e cioè lui però muore di ubriacatura se volete benissimo l'ultima parte però del libro a cui tengo in modo particolare è divisa in due una prima parte è la fortuna in Asia di Tamerlano ed è la storia di di una serie di leggende straordinarie che nascono fin da subito insieme poi alla fine della sua dinastia in realtà la sua dinastia si ridimensiona subito dopo la sua morte suo figlio Sharuch è l'ultimo grande sovrano timuride in senso proprio militare strategico poi il resto del suo regno che si sposta da Samarkand a Herat una città dell'Afghanistan diventa un fatto anche secondario diciamo un regno molto piccolo limitato alla città ma produce una civiltà strepitosa i più bei manoscritti persiani vengono prodotti uno dei discendenti di Tamerlano elabora le famose zig cioè le efemeridi la descrizione delle stelle fisse che è uno dei capolavori della scienza Copernico ne fece largo uso e così in seguito tanti altri fino al settecento fu ampiamente furono ampiamente utilizzate queste tavole e ancora oggi sono utili per conoscere alcuni aspetti che io sinceramente conosco di meno non sono un esperto però fa un sestante gigantesco a Samarkand che oggi purtroppo è stato ricostruito in maniera anche un po' fantasmagorica ma insomma che serve appunto alla alla visione del del cielo e poi ci sono tanti altri c'è il famoso Baissungur Sultan che fa costruire vengono prodotti dei manoscritti di una qualità straordinaria di una bellezza incredibile ma la dinastia sparisce come dire si scioglie si dissolve sparisce alla fine all'inizio del Cinquecento un discendente di Tamerlano si sposta in India e fonda l'impero Mogul l'impero Mogul fondato da Babur nel 1526 diventa un nuovo stato questo nuovo stato è importantissimo perché sarà una delle più grandi potenze di tutto per più di tre secoli e anche diciamo dimostra porterà tutta l'eredità timuride in quella regione in India l'India in qualche modo si iranizzerà si persianizzerà e diventerà un posto dove la tradizione inaugurata dai timuridi si continua anche sul piano culturale sul piano come vedete molto diverso da quello che era stato l'idea in fondo del fondatore che era semplicemente di conquistare il mondo devastarlo razziarlo rapinarlo infine la cosa che mi è molto interessata in questa parte del Tamerlano asiatico se volete è stata di descrivere l'impatto che la figura di Tamerlano ha avuto con il mondo russo il mondo slavo in generale i russi hanno cominciato i loro studi orientalistici chiamando dalla Francia degli specialisti che venivano mandati dall'école de longue dal grande Silvestre del Sassi che mandava questi specialisti a formare le leve dei nuovi orientalisti russi e questi nuovi orientalisti russi cominciano una serie di studi che culmineranno nel lavoro del grande Vassili Bartold Vassili Bartold è stato il più grande studioso di tutti i tempi su Tamerlano ha lasciato dieci volumi straordinari nei quali abbiamo una marea di informazioni una specie di enciclopedia di Tamerlano dopodiché la tradizione continua ma Bartold è il personaggio anche che segna la transizione tra la storia zarista e la storia sovietica quando subito dopo la rivoluzione non sto qui entrando in merito di tutte le storie delle repubbliche sovietiche perché però questa figura di Tamerlano viene vista come il proprio il demone del feudalesimo medievale la figura più negativa in assoluto e nel contempo rimane sotto traccia nelle culture nazionali quelle culture che che cercano di far valere quella che in russo si chiama Karenizazia cioè la indigenizzazione contro lo spirito dei popoli cosiddetto dei sovietici ed è molto molto interessante vedere tutti i dibattiti che ci sono per creare eroi nazionali più o meno autentici a volte a volte inventati di sana pianta e infine cosa succede dopo il crollo del muro di Berlino dopo il crollo del muro di Berlino un un capo del KGB che si chiama Karimov Islam Karimov prende il potere in Uzbekistan e si qualifica lui stesso come novello tamerlano anzi c'è una un'identificazione totale col personaggio che si riflette anche nell'agire politico di questo Karimov che compie anche degli efferati massacri per esempio nella città di Andijan dove vengono uccise un'infinità di persone con lui a capo di una orda di soldati che sembrano proprio imitare appunto le geste di Tamerlano in tutto questo ci sono delle cose straordinarie un film di bellissimo che però non è mai stato completato quindi che non esiste abbiamo solo dei bozzetti dei disegni e scenografie di Eisenstein che si chiama le canalizzazioni e Fergana che appunto fa molto riferimento a Tamerlano ma che venne proibito perché la censura vide in quel Tamerlano proprio Stalin che dissero questo è un calco la figura di Stalin quindi molto interessante era meglio Alessandro Nevsky già Ivan il Terribile pure non scherzava e poi dopo io l'ultima parte la dedico all'Italia all'Europa più che l'Italia e alle numerosissime rappresentazioni di Tamerlano qui le menziono solo alcune anzi invito chi vuole a leggere perché è un elenco infinito ma a cominciare proprio da quel Mignanelli di cui abbiamo parlato Pio secondo Piccolomini Enea Silvio Piccolomini che è l'autore di una descrizione di Tamerlano strepitosa descrizione nella quale appunto Tamerlano è visto come novello Annibale proprio in quegli anni viene dipinto nel Palazzo dei Conservatori a Roma un novello Annibale che passa sopra un elefante che sembra proprio Tamerlano è buffissimo da parte di questo pittore Jacopo Ripanda poi ho parlato di Paolo Giovio e soprattutto molto del pensiero di Machiavelli perché c'era questo studioso Wögelin che aveva fatto un ragionamento straordinario su Tamerlano e la pleonexia cioè la smania di possedere di più di ciò che non ti appartiene di possedere le cose che non che non si desida che associa molto al pensiero di Machiavelli appunto attraverso soprattutto la figura di Castruccio Castracani e poi mi sono dedicato al teatro perché di opere su Tamerlano ce ne sono infinità da Endel Porpora poi si arriva a Vivaldi le grandi pasticci diciamocela francamente non sono opere che hanno molti aspetti filologici però che nei loro libretti arrivano a prendere moltissimi aspetti della figura di Tamerlano e ci sono addirittura delle opere buffe delle cose comiche c'è questo da fiore che descrive in maniera molto molto divertente Tamerlano e Beasit in una commedia arciprota tragichissima come diceva lui dove la cosa che conta di più sono tutte le verdure i tipi di cose da mangiare divertentissimo insomma e infine mi sono dedicato poi alle epoche più moderne perché si arriva addirittura agli anni settanta del 1900 quando Borges scrive una splendida poesia sul Tamerlano ma veramente splendida perché prodotto anche di grandissime conoscenze e infine anche quando un scrittore surrealista francese che si chiama Deobaldia scrive un romanzo che nasconde dietro di sé le bruit e la fureur il rumore e il furore delle gesta di Tamerlano è una storia d'amore che però ha dietro gli echi delle imprese di Tamerlano come vedete Tamerlano proprio penetra nello spirito nell'inconscio collettivo in qualche modo come qualcosa che insomma non è mai stato completamente digerito ecco sì io ho fatto questo libro come dire cerchiamo di digerirlo noi in qualche modo e di trovare in realtà è un libro per me è stata un'esperienza anche abbastanza esistenziale alla fine dei conti perché è un libro molto molto complesso anche per me da scrivere ecco diciamo che si capisce si capisce che c'è c'è un lavoro di dieci anni e più e di grandi conoscenze e penso che il merito principale del libro sia stato il fatto che è una biografia che ripulisce da questa patina che parte dalle propagande contemporanee successive e arriva fino alle suggestioni teatrali degli ultimi secoli la figura di Tamerlano perché lei diceva giustamente professore che pullurano le biografie di Tamerlano ma sono biografie che sono diciamo contaminate da questo fascino poco filologico esatto di Titano ecco ha risposto in questa in questa sua grande presentazione anche molto molto avvincente già la maggior parte delle domande che avevo e quindi Maurizio sarà contento perché così non andiamo oltre però ce n'è una che invece sintetizza un po' perché nasce dalle suggestioni che ha lanciato lei una domanda a due facce il signore della guerra e il il grande il grande capo il signore della guerra beh passando da Tochtamish a Bayazet cioè le due campagne che insomma riguardano più l'Europa per quanto riguarda Tamerlano mi verrebbe da dire che Bayazet era la folgore ma Tamerlano era più veloce e Tochtamish è riuscito a scappare ancora più in fretta perché non è mai stato preso però questa questa ratuta per dire che la guerra per Tamerlano e qui non possiamo che essere d'accordo con Ibn Khaldun è veramente quello che sa fare meglio in tutte le sue espressioni dalla logistica perché guardiamo dalla Cina all'Anatolia alle steppe ucraine all'India e fino alla in condizioni diciamo atmosferiche cangianti e tremende che poi lo portano alla morte ma con migliaia e migliaia di truppe che sono inconcepibili per un esercito europeo contemporaneo e poi anche il fatto della psicologia quindi la guerra psicologica i teschi l'intelligence lo spionaggio e la corruzione alla vigilia delle battaglie quindi è veramente un signore della guerra a 360 gradi in questo questo direi che al di là della truculenza di certi aspetti non gli si può negare probabilmente fa parte del fascino quindi se questo è un elemento che visto che ci ha dedicato molte pagine l'ha stuzzicata particolarmente collegato a questo il fatto che e qui si ricollega un po' al novello Annibale come lo chiamava Pio II che forse non ha saputo sfruttare come diceva il luogotenente tu sai vincere ma non sai sfruttare vittoria perché poi lascia queste queste polverizzazioni a volte funzionali come lo spezzettare gli ottomani in Anatolia ripescando Akku Yunlu ecco però la concezione che Timurua ha di sé da quando prende il potere a Samarkand a quando sfida la Cina all'inizio c'è questa sorta di quasi umile autopresentazione come semplice bei capomilitare eventualmente Kurgun cioè genero reale mai almeno all'inizio Khan e comunque anche questa sorta di non so se c'è un complesso di reverenza verso chi si sapeva essere di sangue principesco come lo stesso Tok Tamish come il sovrano Mameluco quindi lui non risparmia solo per Kerem ma sembra quasi che sia legata a una sorta di sua ricerca di legittimazione sia in ambito islamico con ricorso alla Jihad in certi casi come diceva lei in India sia in ambito anche mongolico il sangue di Chinggis Khan è giustissimo quello che lei dice anzi ha colto mi fa piacere che questa cosa si colga questo fatto di risalire alle origini allora bisogna tenere presente una cosa molto importante nel 1258 finisce il Califato il Califato era la principale fonte di legittimazione per tutti i musulmani con la fine del Califato bisogna trovare nuove fonti di legittimazione la legittimazione che viene istintiva è chi ha soppresso il Califato i mongoli e quindi il sistema mongolo diventa quello che offre lo strumento della legittimazione all'epoca di Tamerlano esiste questa famiglia chagataica Tamerlano si fa chiamare chagataico formescamente diciamo lui non lo era affatto lui era parte di quella che la sua famiglia discendeva da quelli che erano stati membri della guardia di Gengis Khan ma nessuno di loro era mongolo effettivamente erano turchi o turcomanni come vengono definiti in maniera impropria perché anche questa galassia di popolazione turca è completamente è molto diversificata e quindi c'è realtà molto diverse ma la cosa che è interessante è che questa discendenza avviene per via matrilineare è una cosa che sembra un dettaglio ma invece è fondamentale cioè è solo attraverso le donne che si può un po' come avviene nel mondo ebraico è un sistema per cui Tamerlano si comincia a sposare con tutte donne mongole pur di garantire dame principesse però il guaio della sua vita qual è stato che i primi suoi due figli che sono nati da principesse mongole muoiono muoiono prima di di lui e quindi gli altri due che rimangono sono figli di concubine di amorazzi che lui ha avuto e che non non hanno lo stesso valore non hanno sicuramente lo stesso peso che hanno questi e quindi questo cambia completamente le cose tant'è che lui si affiderà un nipote che purtroppo morirà purtroppo per lui morirà anche lui prima della morte di Tamerlano e questo è stato il crucio principale della sua vita il che ci fa pensare che fosse un uomo abbastanza rudimentale nella sua nella sua mentalità insomma legato proprio a fatti ancestrali abbastanza legati però anche al fatto che come nomade non era più un nomade puro questo gli viene anche rimproverato spesso perché in fondo si costruisce Samarkand fa una città monumentale tra l'altro la costruzione di Samarkand è interessantissima da molti punti di vista adesso diciamo non ne possiamo parlare ma fa parte di un processo di sedentarizzazione progressiva però nel contempo conserva questi retaggi e questi retaggi fanno di lui anche una figura che insomma che è anche indecisa tra i due mondi uno studioso turco che si chiama Gemal Kafadar ha scritto un libro che si chiama Between the Two Worlds in cui proprio si vede anche come per gli ottomani purtroppo questa le sopravvivenze nomadiche il neosedentarismo avesse prodotto grandi difficoltà e problemi insomma questi sono aspetti piuttosto inediti bisogna dire che di queste cose ci sono stati dei studiosi americani John Woods ha studiato approfonditamente questi aspetti ma se ne è sempre parlato molto poco perché si è sempre preferito vedere invece un uomo molto forte sicuro di sé cosa che a mio modo di vedere non era né per ragioni fisiche perché Tamerlano è un uomo sofferente tutta la sua vita aveva dei grossi problemi fisici e né un uomo in fondo stabile psicologicamente tante volte fa ricorso a degli espedienti di vario tipo per sparisce per esempio dalla C.E. in India a un certo punto sta malissimo e sparisce e i suoi fanno un disastro devastano Delhi praticamente che era una città già enorme all'epoca non è e quindi è un personaggio anche è un personaggio anche molto ibrido non non così univoco e non così solido come è stato poi rappresentato dopo sì no le contraddizioni ecco una cosa che emerge a concludere sono proprio le contraddizioni di Tamerlano come diceva lei viene accusato di disidentizzarsi che per un nomade è quasi una mi direi una blasfemia che era la stessa accusa che all'inizio della sua carriera lui e altri avevano fatto ad altri nomadi nella zona della transorziana esatto e mi viene in mente anche una cosa che riguarda un po' la vita nomade i berberi in Spagna avevano avuto un problema molto similare quattro secoli prima attorno a un giro secolo quando c'è la stessa frammentazione di regni e gli almonavidi devono passare da essere beduini a fondare la città di Marrakesh quindi e anche lì ci sono c'è il problema dell'illegittimazione perché a un certo momento in Spagna ci sono quattro califi tutte di origini berber quindi nessuno che in realtà appartiene alla famiglia del profeta come richiederebbe proprio a norme regola il Corano quindi devo dire che è affascinante ritrovare a migliaia di chilometri e di secoli queste contraddizioni nei personaggi ma negli stessi meccanismi del potere della legittimazione in questi contesti Tamerlano usava lo stesso termine degli spagnoli gli spagnoli parlano di Reyes de Taifas i regni frammentati eccetera e lui parla dei Muluk Atawaif è la stessa cosa praticamente si è bell'arbo eh sì sì fantastico va bene grazie io ovviamente non possiamo che invitare a leggere queste queste pagine veramente una più affascinante dell'altra infatti io sono qui per ricordare il titolo di questo ultimo saggio appena pubblicato da Salerno che è Tamerlano ringraziamo tantissimo Michele Bernardini che ne è l'autore che è stato nostro gradito ospite ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete insieme a questa tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato fino ad ora grazie ancora professore grazie professore grazie a voi e alla prossima arrivederci grazie a tutti